Sì, grazie Presidente. Io sono veramente contento di votare questa delibera perché dopo tanti sacrifici, dopo tante difficoltà, i cittadini a Roma inizieranno a vedere il cambiamento, inizieranno a trovare degli autobus nuovi per le strade. Il percorso che abbiamo effettuato è stato un percorso... a venire in dichiarazione finale. Vado avanti. Allora, continuo il mio intervento, ripeto, siamo veramente molto contenti di votare questa delibera, è stato un percorso molto molto duro e molto difficile. Abbiamo presentato gli atti in tribunale a settembre 2017. Il nuovo organismo che abbiamo nominato in ATAC, nella persona di Paolo Simeoni, ha fatto un lavoro straordinario, lo voglio dire, qui in aula, perché è stato un lavoro veramente eccellente. Tutti coloro che ci dicevano di questo concordato preventivo dicevano sempre che non gliela farete, è un'azienda che ha un miliardo e trecento milioni di debiti, è un salto nel vuoto, non gliela farete mai. E invece, piano piano, con molta calma, un percorso molto lungo e difficile, ripeto, durato più di un anno e mezzo. Ma siamo arrivati alla conclusione positiva di questo percorso. È stato un percorso molto duro, in questo periodo ogni cosa di straordinario doveva passare attraverso il tribunale, per cui è stato tutto molto complesso e difficile. Ma nonostante questo, nel 2018 siamo riusciti a ottenere maggiori incassi dalla vendita dei biglietti e dalle multe effettuate per coloro che prendono l'autobus senza biglietto. Ci ritroviamo a votare questa delibere e a brevissimo arriveranno dei nuovi autobus, lo ripeto, nel piano di rilancio di Atac, che è il fulcro, il centro dell'attività di questa amministrazione, che i creditori hanno votato positivamente. C'è l'acquisto di 789 autobus nei prossimi tre anni e i 227 sono quelli che andiamo a votare adesso. Io sono particolarmente orgoglioso di questo lavoro, a brevissimo i cittadini inizieranno a vedere i risultati anche per la strada. Sto a concludere. Concludo, per cui votiamo favorevolmente a questa proposta di delibera. Grazie.